Finiremo, che vi devo dire? Staremo al caldo, recensione caliente oggi! Buon salve gente, buon salve, benvenuti o bentornati nel lato oscuro. Io sono Giulia, ma potete chiamarmi Gio, anche sua malvagità. È un orario indecentemente tardi di notte e questo significa due cose fondamentalmente. La prima è che non ho a disposizione tutto il mio decibel sonoro e quindi niente, è una sorta di ASMR cinofilo questo, che tenterò di aggiustare in montaggio sperando appunto che tutto vada secondo i piani. È tardi, sicuramente non succederà, ma dettagli! Dall'altra, chiaramente, sono tornate le mie recensioni, no spoiler a caldo, dei film. Quindi godiamoci cinema finché sono disponibili perché io, signore, la vedo un po' grigia. Sono appena uscita dalla sala, o meglio, sono uscita, sono tornata a casa, insomma, sapete che ho il cinema molto distante e quindi ho avuto anche il viaggio per pensare un attimo a quello che ho visto. E voglio condividere con voi le mie impressioni a caldo sul film di Suicide Squad, Missione Suicida. Partiamo dal presupposto che avevo dei sentimenti contrastanti. Il primo film legato a questo team-up di villain anti-eroi, eccetera, legato appunto al DC Extended Universe, non mi era proprio piaciuto tantissimo, anzi quasi per niente. I personaggi non mi avevano colpito, la storia non mi era interessata più di tanto, non lo so, trovavo che ci fossero delle potenzialità per quanto riguarda appunto la storia in sé, ma poi la resa lasciava un po' a desiderare. E qui, vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Tuttavia, quando è stato annunciato che il regista che avrebbe preso in mano questo progetto era James Gunn, mi si sono un po' risollevate le aspettative, che comunque sono rimaste nella media. Nel senso che James Gunn ci ha già portato sul grande schermo degli altri supergruppi e secondo me aveva anche quella verve e quell'umorismo che poteva essere perfetto per Suicide Squad. Tuttavia, c'è da dire che inizialmente non si sapeva quanto avrebbe potuto giocare sui personaggi. È uscito anche, vabbè, non recentemente, già da un po' si sa che i paletti che gli sono stati dati erano minimi e quindi mi aspettavo un qualcosa di sopra le righe al massimo, super intrattenente e divertente. Ed effettivamente è stato così. Quindi non posso dire di aver avuto bassissime aspettative, semplicemente lasciavo a Gunn la possibilità di sorprendermi. E quindi ve lo dico tranquillamente, il film a me è piaciuto molto, trovo che sia uno dei migliori film della DC per resa, per efficacia, per aspetti visivi, per umorismo. Ma prima di entrare nei dettagli rigorosamente, no spoiler, devo chiamare lei la mia. Sigla! A mio parere il modo migliore per definire questo film è proprio la reinterpretazione di Gunn della Suicide Squad. Voi sapete dal primo film che Amanda Waller era capo della Task Force X. Questo gruppo di meta-umani che non era riconosciuto dal governo, che aveva una missione. E quindi c'era questo improbabile team-up di personalità varie che cozzavano tra di loro e non si amalgamavano perfettamente. E questa, tra l'altro, era la parte della storia che anche nel primo film pensavo potesse funzionare. Come vi avevo anticipato, il mio problema principale è stato poi lo svolgimento, la resa effettivamente sul grande schermo, lo spazio che è stato dato a Joker, lo spazio che è stato dato a Harley Quinn, il fatto che ci fosse tra i personaggi Will Smith, perché non era un personaggio Will Smith? Ah, no, aveva un altro nome. Vabbè, praticamente hanno costruito un personaggio su Will Smith. E tutte queste cose mi avevano limitato effettivamente il piacere della prima pellicola del 2016. E questo supergruppo, preso direttamente dalla prigione col più alto tasso di mortalità, quindi la prigione per supercriminali Bel Rev, credo si chiami così, comunque ha un nuovo compito. Deve dirigersi nell'isola di Corto Maltese, dove dovrà affrontare quello che è stato un colpo di stato, ma non tanto per risollevare le sorti del paese o per avere a che fare a livello politico, ma più che altro per interessarsi di un luogo, un luogo chiamato Jotunheim. Noi marvelliani in realtà sentiamo un riferimento, ma vabbè, anche a livello fumettistico Marvel e DC si sono sempre richiamati in alcuni nomi, quindi chiaramente questa è una coincidenza, dove all'interno avviene questo progetto Starfish, legato in un qualche modo ai nazisti, e quindi loro devono intervenire all'interno di questa situazione. Come potete capire, ci sono già subito delle cose in comune, come per esempio le scene della bomba che mettono a livello del cranio per fare in modo che appunto questi supercriminali siano controllabili, che tuttavia risulta molto più snella, molto più veloce, molto più efficace. E questo primo pezzo, secondo me, potete proprio confrontarlo con il film del 2016 e rendervi conto quanto più efficace è la resa snellita in questo modo che ha tua gun sul grande schermo. In realtà, da quanto ricordo, l'unico vero paletto era quello di mantenere Margot Robbie, che vediamo ancora una volta nei panni di Harley Quinn. Lei a me piace tantissimo sia come attrice che proprio all'interno di questo personaggio e trovo che in questo film ci sia la miglior versione di Harley Quinn. Sicuramente pazza, sicuramente sopra le righe, sicuramente strana, ma che riesce a darci quel qualcosa in più. Non un personaggio stupidino che fa cose a caso e che è folle quasi di conseguenza, ma un personaggio che amalgama umorismo e follia in un modo quasi geniale. Rivediamo anche altri attori e personaggi che erano stati coinvolti precedentemente all'interno del primo progetto di Suicide Squad. Sto parlando per esempio di Viola Davis, che interpreta Amanda Waller. Secondo me il personaggio all'interno di questo film ha leggermente più respiro, non che effettivamente possa avere chissà quali scene, però secondo me viene gestito meglio. Poi abbiamo Joel Kinnaman, che è il leader della Suicide Squad, Rick Flagg, e abbiamo anche Capitan Boomerang, DJ Courtney. Avrò sbagliato probabilmente tutte le pronunce, vi ricordo che è un orario indecito di notte, ma non che di giorno faccia meglio, però voi nel dubbio lasciate correre. Chi più chi meno, secondo me, sono tutti sfruttati in maniera più efficace e congeniale alla trama. Certo, qualcuno in particolare diciamo che non ha tantissimo respiro, vedendo il film capirete perché. In ogni caso ci sono anche altri componenti della squadra, delle squadre perché sappiamo esserci davvero tantissimi personaggi e qui mi viene da dire che capisco perché online si facesse il toto morte. Se ne parlava quasi fosse il nuovo Game of Thrones e vi posso confermare questa cosa, perché ci sarà, diciamo, una selezione all'ingresso. E non solo, e non solo, però già dandovi questa idea capirete che c'era davvero tanta carne al fuoco che però è stata sfoltita in maniera artistica. E soprattutto la prima parte del film ci dà subito l'idea di come Gunn voglia prendere una via del tutto diversa dal progetto precedente. Quindi ci presenta questo inizio film, direi, col botto. Il Dream Team di mercenari superforti che non sbagliano mai un colpo lo abbiamo con Idris Elba che deve interpretare all'interno di questo film Bloodsport e John Cena, Peacemaker. Il personaggio che cerca in tutti i modi di mantenere la pace indipendentemente da quante persone dovrà uccidere. Quindi capite che già questa dinamica comica di questo specchio riflesso tra due personaggi simili che sono in contrasto tra di loro, secondo me funziona benissimo. E non voglio dire che sono i personaggi più seri, ma diciamo che questo film ha un occhio particolare di attenzione per quanto riguarda i personaggi strani, i weird, weirdo anzi, i freak. E se passiamo da un personaggio come The Rat Coacher, questa ragazza che appunto riesce a richiamare e governare i topi grazie a un espediente che poi vedrete all'interno del film. E se volete rappresenta la parte più dolce di questo team, proprio perché ha questo compagno animale che riesce a far fare a tutta la sala, davvero a tutti. Non si è risparmiato nessuno, anche chi come me è villain e non ha un cuore. Comunque l'ha dovuto fare. E quel personaggio lì, quel topino lì, diciamo che è diventato parte dell'immaginario di tutti, la nuova mascotte del film. Quindi Groot, sto parlando con te, spostati. Ma il personaggio che a me ha fatto dire, oh mio Dio, capolavoro, è stato Polka Dot Man. È talmente assurdo che secondo me ben vi spiega il pensiero di Gunn. Cioè ha messo un personaggio che ha a che fare con i puoi. Io vi dico solo questo perché capirete e tutte le scene che lo coinvolgevano erano veramente divertenti e super interessanti perché tu eri lì dicendo ma questo personaggio non ha senso che sia nel gruppo però è bellissimo il fatto che ci sia e trova spazio. Quindi diciamo che si passa appunto da un tipo di stranezza, un tipo di weird, forse più accettabile della ragazza che comanda i topi fino ad arrivare a un ragazzo, un uomo che ha a che fare con i puoi per giungere a dei mostri, tra virgolette, legati più all'aspetto della CGI. In particolar modo parlo della donnola che voi vedrete subito. Io quella donnola come l'ho vista ho detto è repellente ma non riesco a smettere di guardarla e spero che tipo ci sia il più tempo possibile perché io la amo però non la voglio vedere mai più. E mi ha creato questo senso di contrasto, di disgusto da una parte perché si trovano questa donnola in team che però tu dici ma cosa ci fa questa donnola? Ma dall'altra parte era curioso e francamente vedendo quanto Gana ha saputo introdurre appunto questi personaggi pucciosi, animati anche nei Guardiani della Galassia, vabbè questo non era puccioso ma dettagli, puccioso magari è più irratto da compagnia ma nel suo caso era particolare. L'ho trovato molto originale e arriviamo invece a King Shark, un personaggio che sinceramente a me non dava chissà quale vibe, vibes anzi scusate ma oggi sto sragionando perché sto cercando di mettere in fila tutte le idee, ci sono tantissime cose strane, il fatto è che sono talmente strane che funzionano e è un po' questo il punto, cioè Gana ha giocato sulla dimensione di stranezza e ha detto io voglio fare l'estremo e nell'estremo tirerò fuori qualcosa di veramente originale così che la gente, tutte quelle domande che si fa normalmente per i cinecomic capisce che qui sono fuori luogo nonostante la storia sia molto interessante, ci sono delle situazioni che ti fanno dire ma cosa sto guardando? e quindi non ti poni domande ma sei lì e vuoi essere ogni volta sorpreso da questo spettacolo che Gana riesce a mettere sul grande schermo e come vi dicevo in parte anche King Shark è riuscito un po' a prendermi perché l'ho trovato in realtà molto più credibile del personaggio coccodrillo del primo Suicide Squad che adesso non mi viene neanche il nome, fate voi quanto mi è rimasto impresso ma immagino che sia anche una questione di trucco prostetico nel primo film e qua CGI completa l'ho trovato comunque un personaggio carino che faceva un po' l'ulk della situazione e poi in realtà ce ne sono molti altri ma voglio limitare le chiacchiere dei personaggi al minimo giusto per farvi capire un po' come funziona il film secondo me questo gruppo vi rappresenta un po' quello che è il pensiero di Gana che vediamo poi estremamente efficace perché come vi anticipavo prima questo film risulta un po' affollato ci sono tantissime personalità, alcune più importanti di altre ma è bello come sono subito molto immediate, molto efficaci e caratterizzate in pochissimo c'è chi effettivamente ha un pochino più di scena e riesce a parlarci del suo background chi invece viene caratterizzato da quelle frasi, da quelle azioni che però formano proprio l'identità di un personaggio che non è un personaggio profondo ma comunque tu lo riconosci, è definibile e questo secondo me è un pregio di questo film rispetto al precedente dove i personaggi in alcuni casi erano abbozzati e in parte mi viene da dire inutili qui anche i personaggi che sono secondari, anche quelli che appaiono poco comunque hanno il loro momento e tu quel momento lo apprezzi voglio soffermarmi un attimo sul discorso del ridere, della comicità all'interno di questo film io ho riso davvero spesso e voi lo sapete che io sulla comicità sono un po' così per quanto io stia effettivamente portando una serie comica qui su youtube vi lascio qui in giro il video del villa in caffè dove però il tema è i libri diciamo che non sempre la comicità riesce a prendermi soprattutto perché all'interno di alcuni prodotti marvel trovo che molto spesso sia tirata per i capelli banalmente il troppo stroppia e spesso in marvel questa cosa la riesco a notare qui sapevo che comunque la comicità sarebbe stata portata all'estremo che si indugiasse magari in battute un po' più sporche piuttosto che basse e grezze ma comunque reggevano bene anche perché erano dosate con un buon ritmo all'interno poi delle varie scene quindi non si fermava tutto per fare la battuta se lo si faceva era perché appunto c'era quel momento di pausa che era congeniale a quel determinato scambio di parole tra i personaggi e comunque era raro perché riusciva bene a amalgamarsi con tutto il resto quindi non c'erano queste estreme pause e nonostante appunto ce ne siano state comunque tante di battute non sono mai state troppe e questa cosa mi è piaciuta molto anche perché tenete presente che l'umorismo di Gunn è tosto il film è violento e gore a tratti il film dice cose scorrette non estremamente scorrette però comunque dice delle cose molto forti alle volte le battute sono anche battute molto basse nonostante ci sia un buon intervallo anche di scenette più costruite non so ce ne sono alcuni che abbiamo visto anche dai trailer che sono riuscite comunque a colpirmi all'interno di un dato discorso ce n'è una in particolare riguardo Harley Quinn che è fuori dal covo del cattivo che dice vabbè allora torno dentro e quella battuta io già sapevo che c'era all'interno del film però quando è arrivata comunque mi è piaciuta perché ho capito dove è stata inserita quindi non so se riesco a passarvi quanto è stato intrattenente questo film prende prende tanto che il fatto che ci sia una storia che più o meno regge non mi interessava cioè se volevano metterci il babbo natale gonfiabile che iniziava a attaccare la gente uccidere le persone ci stava perché James Gunn avrebbe trovato il modo di inserirlo perfettamente quindi ci stava tu ti aspettavi l'impossibile qualsiasi cosa succedeva sullo schermo era credibile nella sua dimensione di assurdo è una storia che si può riassumere in quattro parole che poi fondamentalmente sono quelle con cui ho iniziato questa recensione e si aggiunge poco e niente poi c'è un sacco di azione anche il personaggio di Harley Quinn che abbiamo visto anche con tantissime parole in altri film qui non è che rinuncia alla dimensione del dialogo è che lo trovo molto più sensato riesce a farci vedere quanto sia folle intervallando un'azione spesso anche violenta con un discorso che è assurdo ma all'interno della logica del personaggio ci sta perfettamente quindi l'ho trovata quasi più profonda e riuscita rispetto alle versioni precedenti e anche l'aspetto della violenza è particolarmente enfatizzabile perché ci sono due o tre momenti in cui arriva quasi a essere troppo ma si ferma nel momento giusto diventa gore però non quel tanto che ti fa distogliere lo sguardo solo quello che ti fa dire oddio ed è bello perché comicità estrema e violenza estrema in questo genere di film funzionano molto molto bene come funzionano le scene dove si vedono delle cose tipo acqua piuttosto che sostanze varie che riescono in qualche modo a formare delle scritte aveva proprio un'identità questo film per questo che all'inizio vi dicevo è la visione di James Gunn della Suicide Squad tuttavia ho un unico dato negativo se volete perché questo film a me è piaciuto tanto mi sono trovata super bene l'ho guardato volentieri è andato molto oltre le mie aspettative la durata dell'ultimo momento c'è un certo punto in cui non so se l'ho percepito solo io e vabbè in quel caso amen che volete farci però c'è un certo punto nel film in cui tu pensi che ci si stia dirigendo a una fine lì più o meno ci poteva stare una fine e poi va avanti ancora ecco quella parte lì per quanto l'azione sia bellissima è una parte che mi tira un po' quindi non lo so a me è pesata più delle altre il resto è riuscito a piacermi mi stupiva, mi intratteneva ma lì ormai era già tanto tempo che era in ballo con la Suicide Squad e sapete che io di solito prediligo contenuti comici che hanno una certa durata e poi faccio video di 20 minuti perché non mi so gestire ma vabbè dettagli quindi se devo trovare un aspetto negativo la fine è stata una fine comunque molto carina però l'ho sentita leggermente più pesante non da stancarmi però da percepire il tempo nella parte finale che non credo sia un gravissimo crimine per il resto però il ritmo secondo me era adatto a questo genere di prodotto e era adatto soprattutto a un film che puntava a strabiliare e intrattenere lo spettatore che lasciava comunque qualcosa soprattutto mi ricordo qualche dialogo particolarmente riuscito forse più nella comicità anche perché è un film che vi porta fondamentalmente a sorridere e a fare tipo in alcune scene in una maniera molto misurata perché si vede che c'è una specie di cadenza in tutto ciò e ci sono anche dei momenti magari un pochino più non voglio dire drammatici però di un tono un po' più scuro verso il finale quindi l'ho trovato molto molto interessante come film e voglio dire solo una piccola cosa per i fan di Doctor Who Capaldi cioè quell'uomo quell'uomo è meraviglioso qualsiasi parte tu gli dai è sempre in character e qui a fare thinker è stato veramente veramente convincente credo che sia stato un valore aggiunto non abbiamo avuto Will Smith all'interno di questo film ma non se ne è sentita la mancanza perché il cast è stato veramente un punto a favore del film erano tutti molto in character quindi io sinceramente posso dire che per quanto riguarda la performance è stato veramente un film riuscito come anche per quanto riguarda gli aspetti visivi oggettivamente a livello visivo era tutto molto efficace tutto molto spettacolare tutto estremo e a me è piaciuto ve l'ho detto potevano mettere un pupazzo di neve che rincorreva la gente e io comunque ci avrei creduto perché in qualche modo lo avrebbero amalgamato ed è un po' il favore di questi film è un po' l'aspetto positivo che non sai mai cosa puoi vedere cosa puoi aspettarti ma in qualche modo tutto centrerà e quadrerà e tu non ti fai neanche le domande ulteriori perché hai una sospensione del giudizio maggiore proprio dovuto alla comicità e all'intrattenenza del film concludo dicendo che sono rimasta piacevolmente sorpresa il film mi è piaciuto tanto ve lo consiglio assolutamente e tra parentesi credo che sia all'interno del DC Extended Universe uno dei miei preferiti se non il mio preferito finora attenzione ho usato delle parole pesanti ma aspetto il vostro parere nei commenti quindi fatemi sapere se avete visto il film se lo andrete a vedere e cosa ne pensate mi raccomando e se volete aiutarmi e volete supportare questo canale lasciate like se il video vi è piaciuto e condividetelo in modo che questa recensione del Suicide Squad Missione Suicida si espanda ovunque e se anche voi come me siete amanti della comicità questo canale fa per voi quindi accorrete iscrivetevi e cliccate la campanellina che non arriveranno donno le antropomorfe ma chi lo sa forse forse è meglio così come al solito in descrizione troverete i link di tutti i miei social nel dubbio Giulia Bifros su tutto in particolar modo su Instagram perché troverete contenuti extra stories disagianti e di bassotti ma soprattutto la schedule e quindi il programma di live che facciamo sulla piattaforma viola dove parleremo sicuramente ancora di Suicide Squad magari con spoiler e niente gente se è fatta una certa cioè sarà fatta tipo un'ora e mezza fa ormai è praticamente domani io scappo ci vediamo al prossimo video bye gente ciao 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 Grazie a tutti.